Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd. Siamo pronti a guardare e reagire assieme al trailerone di Wakanda Forever? Questo deve essere il funerale di Challa, immagino. Come sono eleganti tutti in bianco. Poi le immagini in Raleigh ti rendono tantissimo. Bello. Solamente chi ha sofferto può essere un grande leader. Quindi anche Namor ci verrà raccontato con le sue sofferenze. Bello, due popoli provenienti da luoghi completamente diversi, uniti nel dolore. Eccolo, 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 eccolo. Rischiamo una guerra eterna. Sta arrivando. Vuole il mondo in superficie. No, coie, quanto ti amo. Quanto sono fighi sia gli Atlantidei che i Wakandiani. Chi li protegga. E questa è la nostra occasione di colpire. Ah, Ironheart. Vabbè, ma... Brividi, brividi. Mostragli il nostro valore. Eccola, la Black Panther. Mamma mia, che brividi. Ho dei brividi pazzeschi. Non so se si vedono. Bellissimo. Non vedo l'ora che sia il 9 novembre. No, vi giuro, avevo dei brividi pazzeschi durante la visione. È bellissimo questo trailer. Riesce ad essere contemporaneamente emotivo, emozionale e epico in una maniera allucinante in due minuti. Mi auguro che tutto il film sia così, perché questo è un film veramente che si scommette il tutto per tutto. Ha avuto una lavorazione super travagliata, sappiamo per quali infausti motivi. Ecco, veramente è la massima scommessa dei Marvel Studios. L'ha detto anche Kevin Feige. È il prodotto non corale, quindi non dedicato agli Avengers, più ambizioso della storia dell'MCU. Veramente mi sembra tantissima roba. Tantissima roba. Adoro il fatto che i regnanti di entrambe le nazioni siano stati forgiati attraverso il dolore. Se riesci a superarlo bene, ti riesce davvero a rendere più forte e a rendere più potente e in grado di trovare il modo giusto per comandare il tuo popolo. Namor è fighissimo. È bellissimo vederlo con le sue alucce, alle caviglie, proprio volare. È una minaccia pazzesca lui, veramente. Sotto l'acqua, sopra la superficie, nell'aria. È una minaccia straordinaria ed è estremamente figo. Anche il popolo degli Atlantidei, che vabbè non si chiama Atlantide, il regno di Namor, si chiama Talocan o Talocan. Non ho ancora capito dove si deve mettere l'accento. Fatto sta che comunque è tutto bellissimo e anche bellissimo il parallelo tra le loro usanze, ovvero il dipingersi la pelle per significare determinati sentimenti, determinate importanze rituali. Sono due popoli molto simili, ma che si ritengono probabilmente molto diversi e sicuramente riusciranno a capirsi nel momento in cui apriranno gli occhi e riusciranno a comprendere le somiglianze tra di loro e potrebbero diventare poi entro la fine del film dei grandissimi alleati. Namor è un personaggio molto interessante a livello fumettistico. Mi auguro riescano a rendere tutta la sua profondità drammatica e caratteriale anche all'interno della trasposizione nel Marvel Cinematic Universe. Pardon, ma sono fiduciosa, ecco. Abbiamo visto la Black Panther in tutto il suo splendore, considerando quanto è alta e magra. Mi sembra Shuri ormai, credo che ormai sia certo, ecco. Anche il significato simbolico di vedere lei con la maschera del fratello in mano durante le scene di quello che penso sarà il funerale. Insomma, è lei che adesso si deve assumere la responsabilità di proteggere il proprio popolo. Ed essendo la sorella ci sta anche da un punto di vista di linea dinastica, se così possiamo dire. E poi Shuri comunque è un personaggio super figo, è un personaggio super intelligente, perciò sarà bello vedere un leader così intelligente, perché a me almeno i supereroi intelligenti sono quelli che piacciono di più in assoluto. Namor, anche lui sicuramente intelligente, ma è spinto da questo suo essere, una testaccia dura, dal suo essere facilmente infiammabile pur vivendo sott'acqua, ecco. Il fatto di non appartenere né alla terraferma né a Talocan, Talocan che sia. Mi piace tantissimo tutto quello che ho visto finora, immagino che questo film sarà una figata totale e andrà a chiudere in maniera straordinariamente vertiginosamente figa la fase 4, una fase molto travagliata ma che probabilmente troverà il suo massimo compimento con questo film. Vediamo Riri Williams e stralci della sua armatura di Ironheart, a lei poi verrà dedicata una serie nelle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe. Insomma, c'è tantissima carne al fuoco, questo film deve raccontare tanto, deve emozionare tanto per forza e introduce anche un sacco di nuovi personaggi all'interno del Marvel Cinematic Universe. Sono personaggi importanti, quindi la posta in gioco è altissima, ma sono sicura che riusciranno a fare un lavoro straordinario, perché ci hanno messo veramente il cuore e si sente tantissimo il cuore in queste immagini. Perciò non vedo l'ora di farmi commuovere a fiumi da questo film, perché so che piangerò e piangerò davvero tantissimo. E voi che ne pensate di questo trailer? Scrivetemelo nei commenti.